Ciao grandi, in questo video andremo a vedere come si fa a migliorare la risoluzione delle immagini grazie all'intelligenza artificiale. È un video breve e molto pratico. Quando utilizzo questa metodologia, questo strumento? Quando devo, per esempio, migliorare la qualità di screenshot che faccio all'interno dei miei video, per esempio. Delle volte capita che prendo alcuni frame dei video e utilizzo questi frame per fare la copertina e spesso la qualità dello screenshot è pessima e quindi dando questo screenshot in pasto all'EI la qualità migliora nettamente. Oppure magari ho dei clienti che mi passano delle foto da utilizzare all'interno delle campagne pubblicitari e delle inserzioni ma mi rendo conto che magari non hanno un set fotografico professionale e non hanno scattato le foto in condizioni ottimali. Allora ripasso queste foto all'interno di strumenti AI e queste immagini poi rendono molto di più e diventano molto più accattivanti e anche le prestazioni pubblicitarie aumentano. Oppure magari ho delle mie foto personali che ho scattato in condizioni non ottimali né di luce né di messa a fuoco e anche in questo caso uno strumento come quello che sto per farvi vedere può essere utile. Innanzitutto vi passo il concetto di Opscaling. Opscaling è un concetto che in realtà esiste da tanto anche per esempio nell'ambito dei film per riadattare diciamo alle tecnologie hardware moderne quindi alle tv moderne, film vecchi, che cosa succede? Che viene fatto un processo di Opscaling per cui diciamo si adatta l'immagine alle tecnologie moderne perché altrimenti verrebbe una ciofega. In questo caso l'Opscaling fatto con AI come funziona? Non si tratta di allungare il pixel ma si tratta praticamente di replicare i vari pixel dove l'AI grazie a tutta una serie di database che ha a disposizione riesce a capire come dovrebbero configurarsi i vari pixel nella tua foto per aumentare questi pixel di quantità e per lasciare un effetto abbastanza realistico. Ovviamente più forziamo l'Opscaling più l'effetto diventerà meno realistico e più sfumato quindi dovete trovare voi la via di mezzo giusta. Io sono Igor Papus, è la prima volta che vi trovate su questo canale e sono un marketer e su questo canale realizzo diversi tutorial pratici per esempio come questi o video un pochino più insomma filosofici e teorici ma sempre in ambito di imprenditoria e digital marketing quindi se siete interessati ad iscrivervi al canale e rimanere aggiornati in questo mondo in continua evoluzione insomma a cui trovate tutti i riferimenti. Inoltre vi lascio anche il mio canale Telegram sempre in descrizione e la mia newsletter se volete entrare in contatto con me. Quindi bando le chiacchiere adesso andrò a condividere lo schermo e andremo a fare questa operazione semplice semplice e super veloce. Allora cari io vi faccio vedere questo tool qua che è Image Opscaler però in realtà online trovate diversa roba di questo tipo quindi anche CapCut stesso ha un Opscaler e ho fatto già un video su CapCut anche con i video perché la stessa roba si può fare con i video quindi tu prendi un video con risoluzione bassa gli aumenti la risoluzione quindi è una cosa super fantastica. Quindi come funziona? È una roba super semplice Praticamente innanzitutto qui potete selezionare che tipo di intensità volete dare alla vostra risoluzione, aumento di risoluzione 200 o 400, ok? E che cosa cambia? Cambia che con 400 spesso l'effetto è un pochino forzato con 200 è meno evidente quindi vi consiglio di fare delle prove In questo caso specifico che cosa faccio io? Vado a caricare uno screenshot di una foto che ho realizzato vi faccio vedere, anzi di un video che ho realizzato vi faccio vedere lo screenshot come viene fuori Ecco qui, vedete? Lo screenshot ovviamente siccome si tratta di una fotografia, di un video in movimento vedete anche i contorni non sono ben evidenti io se volessi utilizzare questa foto per l'immagine copertina del mio video YouTube insomma non andrebbe bene perché rimane un po' troppo sfumata quindi io gli do una ripassata veloce all'interno dello strumento di cui vi parlavo e andiamo a vedere di cosa si tratta ecco qua quindi vado a selezionarmi la mia foto che è questa qui me la carica velocemente dopodiché gli dico 200 o 400 vabbè in questo caso vado direttamente su 400 e non faccio altro che dirgli start lo lascio lavorare un paio di secondi quindi una roba super semplice come vedete e a questo punto mi fa la lavorazione in automatico mi rivede tutta la parte del pixelaggio e mi tira fuori il risultato finale da scaricare ecco qui ha finito la conversione a questo punto potete visualizzare anche prima di scaricare oppure scaricare direttamente in questo caso scarico direttamente tanto vuol dire non mi pesa e vediamo che tipo di risultato mi ha tirato fuori voilà guardate adesso voglio farvi il confronto guardate quanto questa sia più adatta e più definita ora c'è da dire una cosa che nel mio caso specifico ho esagerato ho messo 400 sapendo già chi mi avrebbe sfumato e non mi avrebbe lavorato bene sulla parte dietro che è la parte diciamo in secondo piano ma perché? perché a me interessa la sagoma ok? se insomma mi interessasse anche lo sfondo quindi avere un effetto meno netto quindi meno finto allora forse avrei provato il 200 però in questo caso a me mi interessa proprio questa parte qui e vi faccio vedere anche il confronto così capiamo la differenza ecco qua è già evidente guardate tutta la parte per esempio dei colori ma anche dei contorni dei lineamenti dell'espressione quanto è più evidente è bastato veramente pochissimo faccio lo zoom qua invece per farvi vedere la differenza di qualità vedete la barba la bocca gli occhi no? e quindi questa roba ovviamente adesso per me è super utile perché la vado a mettere direttamente nella copertina e a questo punto riesco a fare la mia copertina con un'immagine di qualità bene amici provateci anche voi fate diversi test utilizzate diversi strumenti di upscaling vi lascio anche il video che vi fa vedere come si fa l'upscaling di un video di bassa qualità lo trasforma in un video di alta qualità quindi apparirà qua da qualche parte iscrivetevi al canale se questo contenuto vi è stato utile e soprattutto per essere aggiornati sui prossimi dagli tutta grazie a tutti